Abbiamo avuto modo di presentare il libro Mac, edito da Rizzoli, che vuole essere, ripercorrere un po' la storia di Gino e della collezione, ma anche dedicato alla fondazione, una fondazione che coniuga futuro e passato, perché il futuro si costruisce grazie al passato, non per niente grandi designer si ispirano alle vetture del passato per disegnare le nuove vetture. Noi in particolare vogliamo creare, vogliamo lavorare con i giovani, vogliamo trasmettere questa cultura dell'autostorica, in particolare dei rally e del design, in collaborazione con le principali università italiane e vogliamo portare nel mondo questa cultura italiana anche attraverso delle mostre, delle manifestazioni e tante altre iniziative che abbiamo in programma.